Una grande festa per suggellare un gemellaggio con lo sguardo rivolto all'Europa, all'integrazione e alla fratellanza, nel segno di Celestino V e del percorso celestiniano che parte da Sulmona con l'accensione del fuoco del Morrone e arriva nel capologo abruzzese. Questo è il filo conduttore del patto d'amicizia siglato tra la giostra cavaleresca di Sulmona e la perdonanza celestiniana dell'Aquila. Nella sede del comune nel capologo abruzzese sono state illustrate le prime iniziative per rendere concreta la sinergia durante una conferenza stampa alla presenza del presidente onorario della giostra Domenico Taglieri, dei componenti del direttivo Enzo Testa e Dino Iacobucci responsabile quest'ultimo della giostra d'Europa, del coordinatore del comitato perdonanza Alfredo Moroni, del presidente Rotary Club dell'Aquila Massimo Casacchia, del presidente del circolo Rotary dell'Aquila Gran Sasso Francesca Bocchi. Primo appuntamento è per venerdì 5 agosto all'Aquila, dapprima un incontro all'interno dell'auditorium del parco alle ore 16 e 30 tra i vertici del comitato perdonanza della giostra del Rotary e le due amministrazioni comunali. Successivamente la manifestazione vedrà un sontuoso corteo storico composto da oltre 150 figuranti prendere le mosse alle 17 della fontana luminosa sfilando nel centro storico per approdare in piazza Duomo dove con una cerimonia sarà illustrato il progetto e il patto di amicizia sulle orme di Celestino V che accomuna i due territori. Musici, sbandieratori, dame e nobili della giostra parteciperanno all'evento aquilano insieme alle otto delegazioni straniere che in questi giorni stanno arrivando in Valle Peligna pronti per la sedicesima edizione della giostra cavaleresca che siederà il 6 e 7 agosto nel cuore antico di Sulmona in unione con la decima giostra dei borghi più belli d'Italia secondo la formula vincente sperimentata lo scorso anno per la prima volta. Secondo appuntamento sarà proprio il 6 agosto, prima giornata del lagone europeo quando la delegazione della perdonanza ricambierà la visita sfilando nel corteo storico lungo corso video a Sulmona mentre una rappresentanza della giostra cavaleresca sulmonese tornerà all'Aquila il 28 agosto in occasione della perdonanza. Sono molto felice di questa amicizia che sta nascendo con la perdonanza, commentato il presidente Taglieri ricordando che la giostra e la perdonanza hanno ottenuto riconoscimento della regione di manifestazioni più importanti d'Abruzzo insieme al mastro giurato di Lanciano.